con bright a da e colpo di mercato natalizio del bitonto giunto pochi giorni fa qui in questa sua nuova avventura benvenuto innanzitutto a bitonto bright le prime sensazioni di questi primi giorni di questa tua nuova avventura nero verde col bitonto grazie io sono contento perché io sono entrato in sperato io ho visto un bel gruppo e ho visto che quest'anno c'è qualcosa dentro se vinciamo campionato sicuro l'ottimismo di bright anche in virtù della tanta esperienza che porti sei da ormai dieci anni in italia tante presenze in serie b però questo è un nuovo capitolo della tua vita tutto da riscrivere sì perché serie d è il mio primo anno che io sto facendo in serie d però va bene io ho fatto tante carriere in serie c in serie b quindi io sto qua aiutare la squadra per vincere campionato a centrocampo manzo via son anche gli under mariani piarulli giocatori tutti importanti solitamente si dice che le partite si vincono a centrocampo il centrocampo del bitonto può vincere le partite secondo me sì perché c'è ho visto i giocatori che stanno mesacampo non è non giocatori male quindi c'è io sono arrivato qua per aiutare il centrocampo per fare tutto per vincere campionato l'ultima domanda è stata una trattativa lunga già da inizio dicembre si volciferava si parlava dell'arrivo a bitonto di adda e alla fine però è arrivata la scelta definitiva noi è stato è una cosa che è giusta per venire però va bene abbiamo passato il tempo più più brutto per venire qua quindi mo io sto qua quindi devi dare tutto a questa squadra